Ciao a tutti, affrontiamo l'analisi del trentesimo canto del Purgatorio, un canto fondamentale perché cambia completamente, come vedremo poi fra poco, l'atmosfera proprio del viaggio di Dante. Come sempre partiamo da alcuni dati tecnici, cioè il luogo, siamo nel Paradiso Terrestre, la cima del Purgatorio, ti ricorderai, l'abbiamo visto nella lezione introduttiva del Purgatorio, si chiama appunto Paradiso Terrestre, lì dove appunto Adamo ed Eva vennero creati e lasciati da Dio a dominare il mondo. Dante ci arriva insieme a ovviamente Virgilio, ma anche altri due personaggi, Stazio e Matelda, incontrati nei canti precedenti. Stazio è un autore latino che scrive ovviamente un poema epico e quindi dialoga quasi così naturalmente con Virgilio. Matelda è invece simbolo della condizione preternaturale dell'uomo, un qualcosa del punto che richiama la condizione di Adamo ed Eva prima del peccato originale. Vedremo, e questo sarà il vero dato nuovo di questo canto, l'apparizione di Beatrice e vedremo poi come e quando. Da ultimo siamo nel mattino di mercoledì 13 aprile 1300. mattino vedremo poi sarà un dato non indifferente come tutte le notazioni cronologiche temporali che ci dà la Divina Commedia. L'intreccio, l'intreccio ovviamente si dipana dal preludio all'apparizione di Beatrice, all'apparizione di Beatrice vera e propria che è contemporanea alla sparizione di Virgilio, vedremo poi in che modo scomparirà in maniera, a mio parere, narrativa perfetta. Il pesante rimprovo di Beatrice e la disperazione di Dante, l'intercessione degli angeli per il povero Dante che è stato così colpito dalla donna amata, e poi l'avvio della procedura, tra virgolette chiamiamolo così, del pentimento vero e proprio di Dante, operato proprio grazie alle cattive parole di Beatrice. Ma vedremo poi tutto questo nel dettaglio. Le idee, le idee che troviamo, il trionfo, ecco lo metto tra virgolette perché è una parola che ti ricorderai, e se non te lo ricordi ti rimando alla video-lezione su Lorenzo il Magnifico, è una parola che nel 1300-14 aveva una accezione particolare, cioè è un caro carnascialesco di carnevale, sul quale ovviamente venivano raffigurate attraverso persone delle scene per lo più legate alla mitologia. Qua il caro c'è, lo vedremo fra un po', e sopra c'è appunto Beatrice, accompagnata da tutto un, chiamiamo così, improvvamente codazzo di vegliardi e angeli in un trepudio di canti e di fiori. Ovviamente lo stile è perfettamente consono all'immagine splendida di Beatrice, uno stile quindi che è elevato. Virgilio, filosofia, lascia il posto a Beatrice e teologia. Questo non avviene appunto nel primo canto del Paradiso, ma avviene proprio in questo canto del Purgatorio. Vedremo, c'è un motivo particolare, facilmente intuibile, e che lo si intuisce poi già alla fine dei canti immediatamente precedenti a questo. Dante ormai ha purificato le sette pi che l'angelo custode del Purgatorio ha segnato sulla sua fronte, si è purificato quindi in un cammino di perfetto parallelismo fra aspetto fisico e aspetto metafisico, si è purificato dai sette peccati capitali. Quindi ormai è pronto per l'ascensione al cielo e la visione beatifica di Dio. Ed è per questo che la filosofia, cioè Virgilio, risulta in questo momento insufficiente, inutile, superfluo. Infine l'incontro, l'incontro con Beatrice, è un intervento che qui definisco come brutale. Lo tratta dopo dieci anni, vedremo, di lontananza. Beatrice muore biograficamente nel 1290 e questa azione si svolge nel 1300. Dopo dieci anni di assenza, le parole che rivolge per la prima volta la donna amata al suo amato sono terrificanti, terrificanti, poi dopo vedremo. Ma ovviamente anche questo ha una sua spiegazione e anche questo ovviamente è a fin di bene. Vuole portare Dante ad un pentimento vero, consapevole, profondo, che gli apra, effettivamente nel senso più vero del termine, le porte del paradiso. E qua ti volevo far vedere, appunto, proprio per questo motivo, qual è questo corteo, non lo associamo con Via Reggio o Rio de Janeiro, ma insomma è qualcosa che appunto assomiglia molto a questo. C'è un grifone, un grifone, un animale, appunto, che mescola diverse altre entità animalesche e i sette candelabri, nel margine inferiore di questa splendida miniatura, che è antica evidentemente, e i sette candelabri accesi, che, ti rimando ad una lettura autonoma dei canti precedenti a questo, lasciano dei segni fortissimi, coloratissimi all'interno del cielo, ma, ovviamente, questo miniatura non ha voluto renderle, per non appesantire ulteriormente. Ecco, mi tolgo di mezzo, in modo che tu possa vedere meglio. In lato o a destra appaiono la luna e il sole, e avanzano i 24 seniori, no? Il termine è ovviamente un latinismo, è dei 24 veliardi anziani, simbolo dei 24 libri dell'Antico Testamento. In alto, appena dietro al carro, si possono notare quattro figure, in qualche modo contornate da, così, dei raggi verdi, no? Sono i simboli dei quattro evangelisti, secondo l'iconografia classica, che associa un animale ad un animale o in una realtà a ciascun evangelista, il bue è Luca, il leone è Marco, l'aquila è Giovanni e l'angelo è Matteo. Intorno al carro danzano sette donne, guarda un po', simbolo delle tre virtù teologali, le troviamo immediatamente vicine, più vicine, giustamente, al carro, sono le virtù della fede, della speranza e della carità, vestite di questi colori che noi normalmente associamo a queste tre virtù, l'ardore della carità con il rosso, il verde della speranza, evidentemente, e poi, appunto, il bianco della fede. Dopodiché troviamo le quattro, invece, virtù cardinali, no? Per cui, appunto, fortezza, giustizia, prudenza e temperanza, il testo è un po' più preciso e bello, no? Per cui la prudenza che è auriga virtutum, quindi, ecco, lei che dirige tutte le altre virtù a tre occhi, che evidentemente l'autore di questa miniatura ha voluto, invece, normalizzare, rendendo tutte e quattro le donne con due occhi soltanto. E poi troviamo alle spalle di tutto il gruppo, ci sono quattro anziani di umile aspetto e dietro loro un vecchio solo che viene dormendo con la faccia arguta, che sono, ovviamente, le rispettive personificazioni delle lettere di Pietro, Giovanni, Giacomo e Giuda, scontato il fatto che non sia Giuda Iscariota il traditore, ma sia Giudia Taddeo, che faceva parte del collegio apostolico, e della Apocalisse di San Giovanni. Ecco, questo è il corteo che Dante scorge, appunto, una volta arrivato sulla cima del paradiso terrestre. Molto bello, quindi già si preannuncia un qualcosa, un incontro importante, no? E infatti su questo carro troveremo il personaggio centrale del canto. Ma cominciamo a leggere, è un incipit molto elaborato, evidentemente proprio perché vuole creare una suspense quasi retorica, no? Per un incontro, un evento straordinario. In tutta questa prima parte si avvale, ovviamente, delle profonde conoscenze astronomiche di Dante. è un lungo modo per dire che, appunto, non appena il carro si fermò, i candelaio, i candelaio, i candelaio che si fermò, la gente santa, cioè i ventiquattro anziani, anch'essi, no? Si fermarono e si rivoltarono verso il carro, no? Verso il carro. Ed uno dei vecchi, uno degli anziani, quasi dal ciel messo, come inviato dal cielo, cantò gridando, no? Veni sponsa di Libano, no? E cominciamo con, evidentemente, dei riferimenti forti al sacro testo, ai sacri testi della Bibbia, no? Per cui siamo davanti ad un brano tratto dal Cantico dei Cantici, che evidentemente è rivolto alla Chiesa, no? Considerata come sposa di Cristo. In questo caso, però, giustamente, il vecchio lo indirizza a Beatrice, allegoria della verità divina, della teologia, no? Veni sponsa di Libano, la sposa non è la Chiesa, ma è proprio Beatrice stessa, cantando credo tre volte tutti gli altri appresso, quindi tutti quanti si mettono a cantare, contribuendo a questo clima di attesa del personaggio. Cioè, evidentemente, stiamo per incontrare un personaggio fuori dalla norma. Quali, beati al Novissimo Pando, comincia con una similitudine che ci rende un po' più chiaro che cosa sta succedendo, no? È il trionfo di Beatrice, che in qualche modo richiama la parousia, cioè il giudizio finale a cui tutti gli uomini saranno, saremo, sottoposti dal momento che, in perfetta coerenza, Beatrice è figura, figura di Cristo. Per cui, come i beati risorgeranno solleciti all'ultima chiamata, al Novissimo, che non è nuovo, ma è ultimo, all'ultimo bando, all'ultima chiamata, ognuno dalla sua tomba, cantando Alleluia, ecco questo, Alleluia, è un apax legomenon, no? Una parola che troviamo soltanto qui, nell'intera Divina Commedia, anche se non è un neologismo dantesco, lo troviamo nella liturgia medievale piuttosto diffusa, alleluiare, è un termine che troviamo piuttosto frequentemente. La rivestita voce alleluia, di fatto è una forma, è un latinismo sintattico, perché è un ablativo assoluto, cioè quindi cantando Alleluia con la voce proveniente dal corpo di cui si saranno rivestiti. Ci ricordiamo che, secondo la dottrina cattolica, la resurrezione avverrà anche per i corpi. Cotali, ecco così, allo stesso modo, sul carro divino si alzarono cento ministri, messaggeri di vita eterna, gli angeli, in risposta alla voce di un vecchio tanto autorevole, ad voce ma tanti senis. E qua comincia appunto il riferimento alle parole latine, non al latinismi, perché ovviamente Dante vuole innalzare ancora di più il tono stilistico. Se vuole c'è un motivo anche più semplicemente di rima, perché ovviamente trovare una rima italiana che finisca in is, o enis, più precisamente, sarebbe stato decisamente complesso. Per cui in queste terzine troviamo, guarda caso, delle parole latine. Ad vocem tanti senis, quindi alla voce di un vecchio tanto autorevole, tutti dicevano benedictus qui venis, benedetto colui che viene, o tu che vieni, perché evidentemente è un riferimento allo Vangelo di Marco, in cui, l'abbiamo letto tutti quanti, la Domenica delle Palme, in cui Gesù entra trionfalmente nella città santa di Gerusalemme. Per cui, ecco, importante benedetto tu che vieni, evidentemente in questo caso fa riferimento ancora una volta a Beatrice. E gettando fiori in alto e tutti intorno, manibus o dateli via plenis. Molto bella questa immagine dal punto di vista letterario, perché ti ricorderai che questa è una frase dell'Eneide, siamo sempre nel sesto canto, la discesa agli inferi di Enea, in cui vede uomini del passato e uomini del futuro, no? E ti rimando alle video lezioni che parlano dell'Ade virgiliano, e fra i coloro che si reincarneranno, fra un po', non si sa bene quando, o meglio lo sa Virgilio, ma evidentemente non lo sa Enea, ecco, c'è appunto Marcello, no? Un nipote di Augusto che sembra essere molto promettente e fa ben sperare per il futuro. Quindi una citazione che viene dall'Eneide, una citazione che viene dal Nuovo Testamento, una citazione che viene quindi che in qualche modo vuole riunire nella figura di Beatrice la cultura laica, la cultura religiosa, che soltanto noi, evidentemente, abbiamo distinta in questa maniera così brutale, così antiumana, in qualche modo. Io vi di già nel cominciare del giorno la parte orientale tutta rosata, e l'altro c'è il di bel sereno addorno. Siamo nel momento dell'alba, per questo dicevo all'inizio che è importante sottolinearlo perché è il momento speciale della teofania, no? Questo tutta rosata, ce le chiamo in qualche modo anche Omero, no? Rododacto, Loseos, Lauraora, Dita e Rosate, con cui spesso cominciano i canti dell'Iade e dell'Otissea. In la faccia del sol nascere ombrata, sicché per te rampe imperanza di valore, l'occhio la sostenì a lunga fiata. È importante la notazione, sembra banale, dicevo che c'era un po' di nebbia, c'era un occhio, poteva fissare a lungo lo sguardo, a lungo la vista, poteva fissare a lungo l'immagine del sole. Perché è importante? Perché in realtà nel Paradiso la stessa azione sarà ovviamente impossibile, perché Dante non riuscirà a vedere fisso negli occhi, se non per un millesimo di secondo, la luce che provana da Dio direttamente. Allo stesso modo, dentro la nuvola di fiori che saliva dalle mani degli angeli, irrigativa in basso, dentro il carro e ti fuori, ecco, c'è un'apparizione stilnovistica, qui non c'è bisogno di andare a citare i vari guinizzelli, cavalcanti, lo stesso Dante, però per dirti che ovviamente ormai Dante non solo si è distaccato dal dolce stilnovo per motivi vari, su cui abbiamo fatto anche una ventilazione a cui ti rimando, ma ormai siamo nel Paradiso Terrestre, stiamo per errare nel Paradiso Celeste e questo comporta un superamento esistenziale, quindi anche letterario, poetico, delle situazioni stilnovistiche, situazioni tipo che lo stilnovismo aveva portato nelle sue poesie, tutto ormai sublimato dall'atmosfera paradisiaca e tutt'altra, per cui molte analogie anche nelle reazioni dantesche, ma ormai l'atmosfera è tutta un'altra cosa. Mi apparve una donna, ecco, sopra candido vel cinta d'oliva donna mi apparve, che indossava un velo bianco ed era incolorata di olivo, sotto un verde mantello vestita di colore rosso fiammante, ancora una volta tornano le virtù teologali di cui abbiamo già parlato all'inizio, un candido velo bianco, la fede, sotto verde manto, la speranza, fiamma viva rosso, l'ardore di carità, l'amore. Quindi fede, speranza e carità, carità nel senso più greco del termine. E il mio spirito, che era stato già tanto tempo senza tremare, ecco lì la reazione di Dante, diciamo, stilnovismo, il tremore era una delle reazioni stilnoviste, ma qua siamo, arrivati in un'atmosfera ormai non più umana, colpito dallo stupore per la sua presenza, anche senza vederla con gli occhi, grazie a una virtù nascosta che, mosse da lei, sentì la grande potenza di un antico amore. Molto bella questa immagine che Dante, ecco, ormai ha perso quelli che sono i tratti umani, tra virgolette, le dinamiche umane tradizionali. Nonostante siano passati dieci anni dalla morte, riconosce Beatrice, senza degli occhi, per più conoscenza, non c'è più bisogno del tramite della vista. E ti ricorderai, ti rimando alle tante video-lezioni sulla lirica mediovale delle origini, in cui da Andrea Cappellano e passando poi attraverso Jacopo Tolentini per arrivare poi, anche agli stilnovisti, a Dante stesso, beh il tramite era sempre la vista, il tramite dell'amore, il primo senso che viene coinvolto dal sentimento amoroso, è quello della vista. Qui manca, qui manca e quindi ancora una volta segna, Dante vuole segnare la distanza fra tutto quello che lui stesso ha scritto e tutto il passato della lirica d'amore precedente a lui. Non bastano, non bastano più gli occhi, non servono neanche più. C'è una occulta virtù, ecco c'è una forza, una potenza che promana direttamente da questo essere soprannaturale, qual è Beatrice ormai, Don Angelo a tutti gli effetti, che sorpassa quelli che sono le capacità umane, i sensi che ogni essere umano porta con sé. Non è più questo, ormai non c'è più questo. Tosto che nella vista mi percosse, ecco l'alte virtù, ancora una volta insiste su questo termine che già mi aveva trafitto prima chi ho fuori di Polizia fosse, ci rendiamo che il primo incontro avviene nel 1274, quando entrambi i bambini, Dante e Beatrice, hanno nove anni, a questo fa riferimento e ti ricorderai l'abbiamo studiato nella vita nuova, a cui ti rimando ancora una volta, il primo incontro di Beatrice, siamo ai primissimi capitoli, che cosa succede? Non appena la mia vista fu colpita dall'alta virtù amorosa che già mi aveva trafitto, mi volta a sinistra, con l'ansia, con il respitto, proprio con quel turbamento interiore con il quale il fantolino, cioè il bambino, colui che ha appena appena imparato a fate ora a parlare, infante viene da questo, che non sa parlare, corre la mamma quando ha paura, quando è lì afflitto, quando è turbato o quando gli fa male qualche cosa, quindi Dante si rivolge alla figura paterna che l'ha finora accompagnato, Virgilio. E mi sembra molto importante per dicere a Virgilio, men che dramma di sangue mi è rimasto che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma, cioè Dante manifesta esplicita un'esigenza, non mi è rimasta neanche una goccia di sangue, questa dramma è una misura di peso antica, equivalente più o meno ai 3 grammi, per cui è un'iperbole, non mi è rimasto neanche un po' di sangue nelle vene, che non tremi, per cui tutto il mio essere sconvolto e turbato, conosco i segni dell'antica fiamma, ancora una citazione, ancora una citazione virgiliana, ti ricorderai nel quarto libro delle Neide, queste sono le parole, esattamente queste sono le parole di Dune rivolte alla sorella Anna, in cui confessa il proprio amore per Enea, siamo poi agli inizi, il ventitresimo verso, mi sembra, del quarto libro. Tutt'altro inizio, quindi, tutta la passione amarosa che sta per dispiegarsi in quel canto, noi le ritroviamo qui, guarda caso, sta per lasciare Virgilio, c'è una citazione virgiliana. Ma, ecco qua, mi sembra geniale dal punto di vista narrativo, il ma, perché? Ma Virgilio ne aveva lasciati scemi di sé, Virgilio dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemi, no? E' importante, cioè Virgilio ci aveva lasciato, ovviamente perché Dante ingloba in sé, non è un plurale maiestratese, ma ingloba in sé la figura di Stazio, ci aveva abbandonato, ci aveva affidato per la mia salvezza, richiamo ovviamente, si chiude a un cerchio narrativo che era cominciato nel primo canto. Ed è importante perché ovviamente rimanda a qualcosa un po' più profondo, perché c'è l'insufficienza della ragione umana davanti al soprannaturale, per cui ormai la presenza stessa di Virgilio è superflua, non serve più, e quindi può tranquillamente scomparire. No? E tutte le delizie del paradiso terrestre che Eva, la mia prima, la prima madre, aveva perduto, quelle primizie, quelle delizie che vedo attorno a me stando nel paradiso terrestre, beh non poterono impedire, non mi poterono impedire di ancora tornare a piangere, quindi a sporcare le mie guance di lacrime. Dante ritorna disperato. Mi sembra bello vero dal punto di vista narrativo, insisto perché, perché poteva, no? Un poetastro qualsiasi avrebbe potuto instaurare, inscenare una così, una sceneggiata napoletana, l'accezione peggiore del termine. No, dai Virgilio, resta con me. No, guarda, devo andare via, ormai il mio ruolo è finito. No, resta ancora perché tu sei importante. È tutta una sceneggiata penosa di questo genere, invece Dante, da grande, poeta qual è? Fa scompare, scompare da un momento all'altro senza neanche un ciao, neanche un grazie. Superfo in ogni caso, dovrebbe stato, però è bello perché appunto non c'è soluzione di continuità, c'è sempre una figura accanto a Dante e in questo caso vedremo di chi si tratta. Dante. Ecco, verso 55 ed appare, no? Ed appare il nome del poeta. Vedremo, questo sarà ribadito a verso 63, chiederà scusa addirittura a Dante di questo, perché ovviamente è l'unica volta in tutta la commedia che appare il nome dell'autore. Infatti, secondo ovviamente quelle che sono le convenzioni retoriche dell'epoca, non si può citare il proprio nome all'interno dell'opera. Dante lo fa, ma non lo fa ovviamente per vanagloria, anzi al contrario, forse perché proprio in questo momento comincia il rimprovero di Beatrice, beh proprio per accrescere forse la sua colpa. Non è stata parlando ad un uomo generico, non lo sta parlando proprio a me, a Dante. Io ero il peccatore, io ero il personaggio in grande, gravissima difficoltà. Dante. Perché Virgilio se ne vada, non piange ranco, non piangere ancora, che piangerti con ben per altra spada. Diciamo prima, dopo dieci anni che Dante non vede Beatrice, Beatrice la prima parola che rivolge a Dante è una parola di rimprovero. Improvero violentissimo, cioè, ma è inutile che piangi per Virgilio che sei andato. Ben dovrai piangere per ben altri motivi, non ci sarà un'altra spada, no? C'è un'altra spada che ti trafiggerà l'anima. Per cui tieniti le lacrime per dopo, vedrai che ti succede. Dopo dieci anni, la donna amata risponde all'amante in questo modo. Infatti comincia da verso 58 una caratterizzazione di questa donna, come una donna forte, no? Quasi, è il primo termine di paragone che si concluderà nella prossima slide, quasi ammiraglio, come un ammiraglio che a poppa e a prora viene a vedere la gente che ministra per gli altri legni e a ben farli in cuore. Quindi Beatrice è una donna, donna angelo cattiva in qualche modo, no? È un ammiraglio, appunto, un capitano di vascello che guarda alla poppa, a prora da tutte le parti per comandare, per gestire un'emergenza, per far sentire il peso della sua autorità, no? E sprona a ben far, no? Ecco, in sulla sponda del carro sinistra, quindi così, allo stesso modo, io vidi sul fianco sinistro del carro, quel carro che abbiamo visto all'inizio, trainato dal grifone, quando mi voltai al suono del mio nome, che sono costretto a citare in questi versi, chiede scusa al lettore per aver infranto appunto le convenzioni retoriche del tempo, la donna che prima mi era apparsa velata dai fiori gettati dagli angeli che fissavano sguardo verso di me, di qua, del fiume Lete. Quindi sta guardando me, non è una qualsiasi, non sta parlando in generale. Tutto che il velo, anche se il velo che le scendeva sulla testa, coronato dalle fronte di Minerva, quindi Minerva è la dea della sapienza, ora, a sottolineare il fatto che adesso la teologia è ovviamente la più alta forma di sapere, ma che ovviamente sostituisce in maniera consona la filosofia che invece era rappresentata da Virgilio. Non permetteva di vederla, anche se il velo non permetteva di vederla in viso, ancora regalmente altera nel suo atteggiamento, continuò come colui che parla e riserva gli argomenti più efficaci per la fine del discorso. Proterva, ecco, è un atteggiamento, appunto, ancora una volta abbiamo visto, cattivo, un atteggiamento cattivo. Vedremo che c'è un perché questo cattivo. E finalmente si rivela. Prima ha appellato Dante, ma adesso rivela se stesso, rivela la propria identità. Guardaci ben, ben son, ben son Beatrice, guarda qui, guarda con attenzione qui, in questa direzione. Sono Beatrice. Come degnasti di accedere al monte. Non sapevi tu che qui è l'uomo felice? Ecco, è interessante no? Perché, ancora una volta, l'approccio non è per niente, ma neanche amichevole, no? Nenche meno amorevole. Per cui dice, ecco qua, sono Beatrice. Come ti sei permesso di accedere al paradiso terrestre? Non sapevi che qui soltanto l'uomo felice, cioè l'uomo beato, l'uomo purificato, l'uomo sano interiormente può accedere? Allora, qui arriviamo al centro del canto. centro però non è un centro così generico, perché qua sui giochetti, giochetti o giochi o ragionamenti matematici e geometrici della Divina Commedia è stato scritto tantissimo, questo ti volevo segnalare soltanto questo, dove appare il nome di Beatrice, a verso 73. Ed è interessante perché, come numeri proprio, no? Siamo nel centro proprio geometrico del canto, è preceduto da 72 versi, è seguito da 72 versi, il canto è composto da 145 versi. I numeri, no? Settantatresimo verso, 7 più 10, preceduto da 72 versi, 7 più 2, 9. Ed è interessante perché siamo appunto all'interno del 64esimo canto, 6 più 4, 10, preceduti da 63 e seguiti da 36 canti. È interessante questo perché c'è un continuo e costante gioco legato al 9, no? Ha legato al 9 e al 10. Che significa questo? Beh, certo ci servono un po' di nozioni teologiche. Perché? Perché ovviamente il 9 è il numero trinitario per eccellenza, no? È per questo che il numero 73, il verso a cui appare il 9 di Beatrice, è un verso importante. Allora, qui ci fermiamo anche noi, ci sarà spazio per una seconda parte della spiegazione e dell'analisi perché appunto è apparsa a Beatrice, adesso dobbiamo capire qual è l'azione che Beatrice vuole svolgere nei confronti di Dante, ma questo appunto lo vedremo nella prossima videoazione. Ciao!